adesso con un team del genere signori di lei non dico nulla a buon intenditore poche parole ho fatto oro 1 22 anche stavo l per chi non lo sapesse me lo deve dare mi deve dare un pic buono se no impazzisco giuro che impazzisco ma cos'è sta roba bobozai lo prendo ragazzi non guardo non guardo ma cosa me ne faccio di akimi ditemi se mettere il cappio lo metto vai niente workout va bene oh bello 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 ora si che ci fanno i soldoni orca ma e qui che c'è la squisitesta capite questo è il joypad che costa un euro da game stop io lo preparo eh lo preparo ragazzi apro e inizio a ruotare bene bene via questo è il mio 100k davvero ruoto ruoto si fanno delle ruote si fanno si fanno delle ruote attenzione se mi da spagnolo vola eh va bene va bene va bene non mi lamento posso mettere il mio joypad fu champions il nostro frankie con un misero fuori casse 1 veloce 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 dove vuoi che inizio dove vuoi che inizio destra destra no sempre sinistra sempre sinistra vedi lo metti titolare bel questo metti titolare bel ma hanno messo il limite di overall così all'improvviso quando meno te lo aspetti merda schifo vai via dai vai via non ti voglio vedere non ti voglio vedere alan kurt export aspen oh 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 cos'è viola nooo sbobolai 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 che cazzo è il trenino party ma che so stif ma che so stif 3 if 3 if 3 if ancora l'ho appena trovato sto fraido stiamo sprecando del tempo quasi fa l2 r2 di una facilità incredibile ma proprio così walk out oh goresca vabbè almeno almeno ho fatto anche credit è buono il mio socia questi li fai mandato dai te li mando su beh questi te li mando su sto giro questi te li mando su ti faccio l'86 più fai quell'86 più che si go 86 più si sa mai che quell'86 più valga qualcosa fuori class è il tuo massimo bello si si non l'ho mai fatto ho un massimo 23 guardalo 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 ridilo 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 sono uguali zii sono tutti uguali avete il gap secondo me esce un bug cioè esce fuori che c'era un bug e che fuori class non poteva uscire più di 82 ragazzi ragazzi per me esce un bug c'è un bug c'è un bug c'è un bug e l'ho preso pure il culo guarda 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 no zio scarta non li voglio vedere ho sbagliato beh non era il rumore era la puzza di merda era la puzza di merda demamide fuori classe 3 allora vai primo pick solita cacca secondo pick amma mia ragazzi comunque sono un'offesa sono sti pacchi pacchetto ultimate walk out francese ci stanno trollando sarà forse loro due a sbloccarci la situazione è proprio loro due è proprio loro due va bene va bene va bene lo accettiamo guardalo il pacchetto mega che soddisfazione italiano dammi giorgio dammi giorgio se vuoi che me lo devi dare dammi giorgio dai giorgio la terra che tremò via aria al cazzo hai capito hai capito chi è nascosto sotto Arthur fuori classe 1 another one quei tre pick che vediamo partiamo dal centro per capire che aria butta è un 82 e quindi fa cagare però viaggia via cioè se anche il prossimo pick non va sopra l'82 c'è un problema no 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 c'è un problema non c'è stato uno che ha ricevuto un giocatore più di 82 qua c'è del non detto eh a bandiera un po' fraida Kimmich 88 mamma mia fammi indovinare massimo 82 82 casomai dacci qualcosa di goloso perché sennò ti prendo schiaffoni eh mo' iniziano a volare degli schiaffoni oh walk out e il cona è la nata che pacco è la nata che pacco oh è un milione porti un 150 sta allora il nostro Tommy Bobber che settimana scorsa gli ho trovato CR7 tanta tanta roba sbang non è vero non è vero non è vero non mi serviva e l'ho trovata non ci voglio credere no Bel non è vero non è vero no non è vero Bel non è vero non è vero allora Bel io ti lancio una sfida non te lo prendo e te lo ritrovo dopo dai Bel i due pick più belli fino adesso ragazzi possiamo farmi un applauso mi faccio un applauso di nuovo il canto ingrese il cane pandev kane bernardo silva non mi dai un budget quindi oggi sono a ruota libera oggi è il day off vediamo se in day off produco o mi serve la pressione a me per produrre sbang oh tex hai e intanto ci abbiamo alex poi miglioriamo vediamo miglioriamo ma shuai oh vabbè ma signori è il vostro momento ci troviamo sono un michelangelo basta ragazzi sono il michelangelo del giovedì work out sancio ecco il sancio un album da quante golone scatta mi scatta io non li voglio neanche vedere è le 2 r2 è le 2 r2 la combo è le 2 r2 è quel campione è quel momento primo pick di giornata ma allora avete sto virus qua sto weekend ragazzi c'è il virus no 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 ragazzi qua è la presa per il culo no no ha messo il cap ha messo il cap no ragazzi ma dai ma che cos'è qua bisogna fare il golpe qua bisogna fare il golpe ragazzi massimo 82 e l'ultimo un 85 Gary Flou bello mio grazie oh quanto costa Kimi no venti gatto oi ma lei ma indissi le piace nasconde essere nascosto grazie Flou grazie a tutti per la Royale Ci sta Insegna come copertina brutto Ma poi c'è il mio soggia E il magico Goresca alza il pacchetto Fuori classe del cappiore Fuori classe Dai, prima Frankie voleva partire da destra Ragazzi c'è il cap Hanno messo il cap a 82 Più di 82 non potete andare Arturo 82, 85 Che schifo La cuffia Che cos'è? Spagnolo? Walkout? Non ce la fanno a non darmi gli spagnoli Ronaldo? Mario Rui Madonna Che rogna Dunfries Madonna Hai fatto la nazionale giapponese Questi pelve L'unica cosa buona è il dopo partita Che vai al sushi e te lo fanno loro Non mi tolgo neanche la possibilità di scrivere Ah però già subito Immediatamente Ma resti, ma resti, ma resti È proprio lui Questo Così di schiena Brutto così di schiena La shuai Siamo alternati Cioè ragazzi ma davvero Ma che cos'è? Ma ragazzi Ma che cos'è? Ma non vanno sopra l'82 Ma faccia al serio Signori degli A Eh, Vidale Cosa ci faccio con Vidale? Le sega mi faccio con Vidale E dove lo metto? È il difensore centrale Dammi l'inglese Dammi l'inglese Dammi l'inglese Dammi l'inglese Ma no Il demonio Oddio Ho pianto Ho fatto il piantino Ho fatto il piantino? Eh Samir Andavis Signori questo È un momento importante E siamo pronti a fare la storia E siamo pronti a fare la storia Figurati se mi fa trovare qualcosa di buono qua È quel tendino Oh no Oh mio dio